Ciao a tutti da Mario Carbone, venuti in questa nuova lezione del metodo per tarantella reggitana, volume 2. Oggi vedremo insieme l'esercizio numero 25. L'esercizio è questo. Ora questo ritmo l'ho ripetuto tre volte, però ovviamente l'ha fatto tantissime volte. Abbiamo ora in chiusura 3 e 2, in levare 4 e 2, poi altre tre volte, insomma, 4 e 2. Quindi è questo. Chiaro? Quindi questo. Facciamo lento, quindi... Nel primo movimento abbiamo 3 e 2 e 4 e 2, così. E lo memorizzate. Poi il secondo movimento abbiamo 3 volte 4 e 2. Lo collegate tutto e fate questo. Ancora questo. Bene, vi mostro la battuta che è questa, la prima, va bene? Ripetetela per 10 minuti, poi andiamo avanti. 3-2-3 e 3-2-3 in stessa posizione. Questa sequenza l'avete già incontrata negli esercizi precedenti. Ecco qua, l'esercizio numero 16. Seconda battuta, l'esercizio numero 16. E questa. Quindi facilissima. E questo 3-2-3. Poi stessa posizione. 3-2-3. E quindi ricollegate così. E collegate queste due battute ora. Quindi così. E così. Ancora questo. Bene, ripetete queste due battute per un'oretta, va bene? Bene, bentornati. Andiamo avanti con questo. Ora qua è la stessa ritmica di prima. Abbiamo 4-3 e il 3 cerchiato e il 2 che si ripete. Come all'inizio. Prima era questo, così. Invece in apertura abbiamo questo 4-3. Cambia solo questo. 4-3-3, 3 cerchiate e 2 in levare. E poi si ripete tre volte questo. Quindi è questo. Ancora questo. Ancora questo. Bene, memorizzate bene ciò che vi ho fatto vedere ora. La battuta in questione è questa, va bene? Bene, ripetetela e poi collegate queste tre battute dall'inizio. Bene, fatto questo. Andiamo in quarta posizione, 5-2, questo. E poi torniamo su quel 3 cerchiato e 2 di prima. Quindi 5-2 in quarta posizione. E poi in quinta posizione 3 cerchiato e 2, così. Quindi... Ancora questo. Benissimo. Se voi ripetete tante volte, insomma, questo, va bene? Allora... Allora... Fate questo, praticamente. 5-2 E poi 3-2 qua, quindi... Ancora questo. 5-2 in battere e 3-2 cerchiato in levare. Poi in battere nuovamente, in levare. Quindi è questo. E questa ultima battuta, va bene? Che è questa. Fatela per una mezz'oretta, poi collegate tutto il rigo. Quindi tutto il rigo fatto lentamente sarà così. Dopo il metrono poi si può sentire la velocità, anche più lento. Questa è l'inchiusura e l'apertura invece così. Chiaro? Lo ripetete lentamente. I bassi è facile a metterli. Vi faccio vedere molto lentamente come incastrarli. Prima battuta. La seconda battuta. In apertura sarà la stessa cosa, perché è la stessa ritmica. Poi qua è facilissimo, chiudi il manticio per l'ultima battuta. Va bene? E quindi poi man mano la fate, soprattutto prima lentamente. E vi collegate subito dall'inizio. Chiaro? Bene. Grazie.